pace e bene cari amici bentrovati siamo alla quarta domenica del tempo d'avvento ormai prossimi al Natale e contempliamo come fu generato Gesù nella prospettiva del Vangelo secondo Matteo noi vogliamo leggere questo testo puntando il nostro sguardo soprattutto sul vissuto di San Giuseppe per vedere come Dio è entrato nella sua vita come egli abbia ascoltato e accolto la volontà del Signore dando a Dio stesso la possibilità di entrare nella storia andiamo dunque al testo anzitutto ci è detto che mentre Maria e Giuseppe erano promessi sposi prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo ecco Maria e Giuseppe erano promessi sposi non nel senso di Renzo e Lucia del Manzoni ma nel senso che già secondo il rito giudaico avevano compiuto la prima tappa del matrimonio un primo rito dopo il quale dovevano passare 12 mesi perché i due coniugi potessero andare a vivere insieme quindi Maria e Giuseppe già avevano vissuto questa prima tappa e nell'arco di questi 12 mesi avviene l'inimmaginabile Maria incinta per opera dello Spirito Santo non so se ricordate nel libro della Genesi quando ci è narrata la creazione si parla dello Spirito che aleggiava sulle acque potremmo anche tradurre l'ebraico come covava sulle acque lo Spirito che covava dava vita alla creazione qui in Maria lo Spirito di Dio opera una nuova creazione cioè permette e opera l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità immaginiamo perché il Vangelo è scarnissimo di dettagli come si ritrovò San Giuseppe possiamo immaginare che i due parlarono insieme che Maria cercò di spiegare all'amato cosa le fosse accaduto e possiamo immaginare il travaglio di San Giuseppe il Vangelo ci dice poiché San Giuseppe suo sposo era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto ecco Giuseppe accoglie l'annuncio di Maria e grande possiamo immaginare fu il suo travaglio da una parte conosceva Maria sapeva bene le virtù bellissime di Maria conosceva la sincerità di questa giovane donna e ciò che Maria gli stava raccontando era qualcosa di oltre San Giuseppe figlio del suo popolo attendeva anche lui il Messia e quindi da una parte e se fosse così e se fosse vero ma dall'altra anche l'incredibilità del racconto dell'accaduto Dio che opera una cosa del genere ci rendiamo conto che una cosa oltre e San Giuseppe vive tutto questo travaglio nel suo cuore fateci caso non una parola non un gesto di di violenza di rabbia neanche un gesto di depressione un silenzio abitato un silenzio vissuto nella riflessione profonda e nel dialogo interiore anche con Dio cosa guida Giuseppe la ricerca della volontà di Dio la ricerca del vero bene San Giuseppe c'è detto era un uomo giusto un uomo secondo il cuore di Dio un uomo che voleva seguire la parola di Dio e non la interpreta duramente o legalisticamente perché al tempo di Gesù il quarto comandamento scusate il sesto comandamento non commettere adulterio era stato interpretato in vario modo ed era anche prevista la lapidazione per la donna trovata incinta non ad opera del marito prima che si arrivasse al matrimonio quindi nel corso di questi 12 mesi San Giuseppe avrebbe potuto denunciarla e applicare la legge di quel tempo ma San Giuseppe cerca qualcosa di più profondo cerca la volontà di Dio capisce che non è così che vivrebbe il cuore della legge che l'amore sceglie nel suo cuore di tutelare Maria e la vita che porta nel suo grembo e penso di ripudiarla in segreto potremmo dire penso di farsi da parte in segreto di lasciarla andare e guardate che non era una cosa da poco perché San Giuseppe agli occhi degli altri passava come tradito e traditore come tradito dalla moglie e traditore della legge San Giuseppe dunque matura tutto ciò nel suo cuore possiamo dire pensare che intuendo la mano di Dio in tutto questo sceglie di fare un passo indietro di non essere di intralcio Dio vedendo il travaglio la ricerca di questo suo figlio amato interviene nella sua vita attraverso un sogno tante volte Dio si è servito di questo canale nella storia della salvezza nella vita di tanti santi di tante persone certo ci vuol tanta delicatezza e prudenza parlando di sogni maggior parte dei quali vengono da noi stessi ma a volte Dio può anche utilizzare questo canale come in questo caso entra con un sogno e si rivolge a Giuseppe dicendogli non temere sono le stesse parole che rivolse a Maria secondo alcuni studiosi il non temere ricorrerebbe 365 volte nella Bibbia come a dire che ogni giorno Dio rivolge a noi questa parola non temere non temere perché io sono con te e qui dice Giuseppe non temere non temere di prendere in sposa Maria come a dirgli non ti accontentare di fare un passo indietro ma fatti carico prendi con te questa donna come tua sposa e si padre per questo bambino Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere Maria quel che è generato in lei viene dallo spirito santo egli darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati bellissimo Dio entra nella vita di Giuseppe gli chiede questo passo in più quest'atto d'amore più grande gli chiede di fare un passo oltre di essere padre per il figlio dell'altissimo San Giuseppe ci dice il Vangelo alzato si fece come l'angelo gli aveva ordinato l'ascolto di Giuseppe un ascolto obbediente non è uno che fa orecchie da mercante ma uno che vuol davvero capire la volontà di Dio e soprattutto è pronto a metterla in atto San Giuseppe cosa ci mostra ci mostra che lasciare entrare nella vita Dio non toglie ma dà San Giuseppe chiamato non solo a prendere in sposa Maria ma ad essere padre per questo bambino e chi è questo bambino il figlio dell'eterno padre Dio chiede a Giuseppe di insegnare al suo figlio a vivere da uomo a pregare da uomo a lavorare da uomo Maria e Giuseppe insegnano a Dio a vivere da uomo come a dirci aprire il cuore alla volontà di Dio non toglie ma porta a pienezza quante persone appena sentono parlare di volontà di Dio pensano subito a una minaccia incombente non so di qualche sofferenza o di qualche limite che viene a intralciare la tua libertà e la tua piena realizzazione se solo scoprissimo che tutto è tranne questo la volontà di Dio scoprire che aprirsi al suo progetto significa aprirsi all'impossibile che solo Dio può operare in noi significa capire che Dio non viene a togliere ma a donare e che se viene a chiederci qualcosa è perché molto di più è ciò che ci vuol dare che l'esempio allora di San Giuseppe ci aiuti a vivere in modo significativo questo Natale e ogni giorno della nostra vita attenti a discernere a scoprire il disegno di Dio pronti a metterlo in atto che Dio vi benedica tutti e buon cammino pace e bene